Ciao a tutti, io sono la dottoressa Giannila Ceccherini, sono la responsabile del reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Concordio Blue Vet di Lucca. Mi occupo oltre che di terapia intensiva anche di coadiuvare e coordinare tutte le attività della medicina d'urgenza e del pronto soccorso. Questo ospedale fondamentalmente grazie a Blue Vet si è diviso negli anni e ultimamente ancora di più in reparti, proprio per dare un taglio molto più moderno e più attuale, più vicino a quello che è la medicina umana, dell'organizzazione proprio dei nostri pazienti, di quello che facciamo. Pertanto grazie proprio anche ad una volontà di Blue Vet, del nostro direttore sanitario e di tutta la squadra abbiamo cercato di dividere l'ospedale dei reparti. Ogni reparto quindi ha il suo responsabile, lavoriamo in maniera coordinata in questo modo, più organizzata e più efficiente. Quando sono entrata nell'ospedale San Concordio dovevamo un po' riorganizzare il reparto di terapia intensiva e di pronto soccorso e trovando appunto in Blue Vet e in tutta comunque la squadra un grande appoggio in questo, ho cercato insieme a tutti di rendermi disponibile ad organizzare proprio ex novo questo reparto coinvolgendo, avendo un'esperienza di 10 anni proveniente dall'università, coinvolgendo quelli che erano stati i miei ex studenti, tesisti appunto in terapia intensiva.